dal tempio di salomone qui nel giardino degli olivi mi piacerebbe fare una preghiera per te mamma tu mamma che hai pianto per il tuo figlio per tua figlia che purtroppo non ti considera non accetta i tuoi consigli né i tuoi riproveri e ancora ignora il fatto di aver bisogno di cercare Dio pensando di non aver bisogno perché sono giovani con salute intelligenti forti loro pensano di non aver bisogno di Dio quando la verità è che tutti assolutamente tutti abbiamo bisogno di Dio per te mamma che hai pianto continuamente per i tuoi figli io voglio che lei sappia che Dio voglia asciugare le tue lacrime e non dimentichi che lei mamma papà che è una delle condizioni finché Dio risusciti questo figlio che è morto a causa dei vizi delle cattive nemicizie egoismo a causa della violenza o di una malattia un problema economico io non so qual è la situazione in cui il suo figlio è coinvolto sua figlia perché lei signora signore sta soffrendo ma una cosa io so che la prima cosa che Gesù ha detto a tutte le mamme a tutti i papà che erano disperati che soffrivano a causa di un problema che riguardavano i figli la figlia è stato non piangere non temere allora mamma papà io vi dico non piangete siate forti questo non piangere significa non cedere all'emozione non cedere i sentimenti lì per sé le signore signore che cede all'emozione sentimenti e quell'amore quell'affetto quella preoccupazione quei pianti meravigliosi che voi avete per i vostri figli diventeranno incredulità angoscia rancore dubbi e questo accertamento ti rattristerà dice la parola di dio o signore tu esaudisci il desiderio degli umili tu fortifichi il loro cuore porge il tuo orecchio dio provvederà a lei mamma dio provvederà a lei papà ma per dio provvedere per dio esaudire le nostre necessità e fortificare il nostro cuore noi dobbiamo essere umile umile per accettare il fatto che le nostre lacrime la nostra tristezza il nostro dolore non risolverà il problema dei nostri figli ma ciò che farà i nostri figli siano liberi siano benedetti siano salvi è giustamente che lei signora lei signore io e tutti noi che siamo genitori dobbiamo avere fiducia che dio ascolta la nostra preghiera e lui esaudirà le nostre necessità che abbiamo come genitore perché lui sta vedendo in lei e in me l'umiltà siamo umili umile per riconoscere che noi non possiamo controllare la vita dei nostri figli non possiamo trasformare il loro cuore noi non possiamo cambiare i loro pensieri tanto meno i loro piani ma noi possiamo pregare per loro con umiltà confidare e dipendere da dio poiché lui non ha mai deluso nessuno e tu non sarai il primo e neanche io dio non durerà mai gli umili quelli che fortificano il cuore con ciò che è il promesso perché dio promette di provvedere a tutti i bisognosi parliamo con dio mi piacerebbe che lei mamma lei papà se è possibile di avvicinarsi al televisione al computer che mettiate le vostre mani sulle mie mani e dal giardino degli olivi del tempio di salomone io dico papà mamma siate liberi siate liberi da questo pensiero orribile che suo figlio cammina con cattive amicizie ed è un viziato è coinvolto con la prostituzione sua figlia cammina con cattive amicizie con persone violente viziato sia libera sia libera da quei pensieri negativi come mio figlio mia figlia mai mi daranno felicità mai mi faranno felice mai mi faranno essere fiero sia libero papà sia libero mamma sia libero adesso da quel sentimento di tristezza di rancore di odio per essere stata umiliata per essere stata disprezzata per essere stata ingiustiziata da chi hai tanto amato ti sei presa cura ti sei sacrificata perché potesse essere vivo che avesse vita oggi nemmeno ti dice buongiorno oggi nemmeno le chiedi se lei signore sta bene lei signore sta bene o ha bisogno di qualcosa oggi non si importano con il suo benessere dove si trova come sta sei libero adesso da tutti questi sentimenti da amarezza tristezza solitudine nel nome del signore gesù che esca ora dalla tua mente esca ora dal tuo cuore esca da lei adesso quello spirito di angoscia paura quello spirito di rancore odio per tutto ciò che lei signora ha sofferto per tutto ciò che lei signore ha sofferto mio padre mio dio mette le mani sul tuo cuore mamma papà e dite io consegno nelle tue mani la mia vita e la vita dei miei figli dite il nome del vostro figlio vostra figlia dite a dio mio dio io non posso cambiare il suo cuore cambiare il suo carattere i suoi piani ma tu signore puoi quindi adesso in questo momento tramite questa preghiera con il vescovo dal giardino degli olivi nel tempio di salomone visita mio figlio visita mia figlia e strappa via quel cuore di pietra quel cuore orgoglioso prepotente incredibile egoista fanatico quel cuore materialista e dal mio figlio a mia figlia un cuore umile un cuore sincero grato a te e ai genitori un cuore che ti dà obbedienza a te oh mio dio salva questa famiglia salva questa casa mio padre fai in modo che ci sia comunicazione tra i figli e i genitori fai in modo che ci sia rispetto reciproco fai in modo che ci sia gratitudine fai in modo che questa figlia questo figlio d'ora in poi si converta a te e valorizza i suoi genitori la tua promessa mio dio verso gli umili e che tu signore esaudirai i nostri desideri la promessa del signore è che questo papà questa mamma che confida in te vedrà la sua famiglia ai tuoi piedi è ciò che noi determiniamo qui nel giardino degli olivi nel tempo di salomone le mamme e i papà che piangono smentono di piangere e iniziano a sorridere vedi amica amico immaginatevi adesso con i vostri figli immagini ora suo figlio sua figlia che abbraccia le bacia e gli dice papà grazie per non avere mai rinunciato a me mamma grazie di aver pregato per me mamma io ti amo si immagina adesso abbracciata suo figlio sua figlia e lo stesso dicendo grazie di aver lottato per me di cercare dio per me perché oggi io sono libera con salute felice realizzata grazie al tuo esempio come padre e come madre e tutti i genitori ripetete io sarò un papà felice una mamma felice è proprio così non è stato e non saranno in vano le nostre preghiere la nostra credenza in dio lui la fortifica adesso lì dove si trova lei riceve la pace l'allegria l'amore la forza e l'animo e la disposizione per essere una madre migliore un padre migliore e per fare solo ciò che lei può fare come padre come madre allora non pensare che è stato che sta essendo o che ogni sforzo sarà in vano perché non lo è stato e non lo è non lo sarà poiché la nostra ricompensa sarà vedere la nostra famiglia unita ai piedi di gesù se ti è stato d'aiuto questa preghiera questo messaggio allora lascia il tuo commento su your tv punto io o chiama c'è il nostro amico 24 ore e condivide con noi il tuo super amico la tua realizzazione il numero è 0 2 45 49 49 40 a domani